Un'alleanza tra grandi aziende per produrre energia pulita. Il progetto da 600 milioni di euro è stato appena presentato a Frascati e c'era per noi Ines Uva. L'obiettivo è ambizioso, produrre energia rinnovabile, sicura e inesauribile, con lo stesso meccanismo che accende le stelle, la fusione nucleare. All'Enea di Frascati si lavora il reattore DTT, 530 milioni e 6 anni per realizzare il Divertor Tokamak Test, un tassello di un progetto mondiale. Il cantiere in Francia è già partito. Ci sono dentro tutte le grandi potenze industriali per cercare di arrivare a questa energia pulita e infinita che ci può consentire di risolvere quel pezzo di sostenibilità che forse non riusciamo a risolvere con le rinnovabili. Da oggi entra ufficialmente anche l'Enea in questa alleanza per il futuro che coinvolge la Banca Europea per gli investimenti, la Regione Lazio, i ministeri dello sviluppo economico, dell'università e numerosi poli universitari. Solo la cittadella della scienza di Frascati impegnerà 500 persone, 1500 con l'indotto, ma le ricadute andranno oltre. Oggi di nuovo a Roma i lavoratori...